Si consuma sempre di meno, si spende comunque ancora tanto, ma si acquista solo lo stretto necessario. Sono ancora in calo, infatti, le vendite al dettaglio di tutti i prodotti, non solo dei non alimentari, ma anche degli alimentari. I dati dell'Istituto di Statistica gelano ogni ottimismo sulla fine della crisi e l'inizio della ripresa. Rispetto al dicembre 2015, le vendite sono scese in un anno dello 0,2% in valore e dello 0,6% in volume. In pratica si spende di meno e si acquista di meno. E questo vale anche per gli alimentari, che fanno sì registrare un leggero aumento dello 0,2% del valore dei prodotti venduti, ma anche una flessione di quasi un punto percentuale del volume del venduto. Per mangiare, cioè, abbiamo speso un po' di più, ma abbiamo comperato meno. Non è un caso che a crescere, come rivela Coldiretti, siano solo i discount alimentari. A salvare la spesa al dettaglio, infatti, è solo il boom delle vendite a basso costo, che a fine anno chiudono con un significativo più 2%. Una famiglia su quattro, in pratica, sceglie solo i prodotti che costano meno e lo fa nei discount, abbandonando soprattutto le piccole botteghe tradizionali, ormai in via di estinzione. Esprimono grande preoccupazione tutte le associazioni dei consumatori, che sottolineano che quest'anno anche il Natale è passato in vano, anzi, si è rivelato un vero flop, con un calo delle vendite in dicembre dello 0,5% rispetto a novembre e dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Una brutta notizia, soprattutto perché il 2016 doveva, nelle previsioni, essere l'anno della ripresa del commercio, ed invece continua il trend negativo. Negli ultimi anni i consumi sono scesi del 12% e le famiglie italiane, timorose e sfiduciate, hanno ridotto le spese di 80 miliardi di euro.